Qual è il punto di forza della riforma? Il punto di forza della riforma credo sia soltanto a favore di quei poteri forti che stanno dietro al governo che l'ha decisa e quindi poteri industriali e economici che hanno stabilito da soli senza l'ausilio dell'università senza l'ausilio di alcuna consultazione vera con l'università le regole di questo decreto, di questo disegno legge. E qual è il punto di debolezza più evidente per te? Il punto di debolezza più evidente ne vedo uno che sento da vicino, personale, legato ad un periodo di precariato che si allunga e alla figura del ricercatore come figura di ruolo che di fatto scompare. Se prima il ricercatore diventava comunque una figura interna dell'università, ora questo non esiste più. Sono sei anni di precariato che si vanno ad aggiungere ai tre di dottorato di ricerca, a quelli di assegno di ricerca che comunque sono assolutamente legati ad una figura di precario all'interno dell'università e ad altri anni che comunque passano da uno stadio al successivo in questa sorta di escalation sempre più complessa e sempre più di fatto impossibile. Sfido chiunque a stabilire, di decidere di intraprendere una carriera universitaria quando gli anni di precariato di fatto sono molto più di sei, una quindicina. E quindi una sorta di stabilizzazione arriva soltanto attorno ai 40 anni o forse anche dopo, se arriva. Allora, aggiungo una cosa, nel decreto si parla di possibilità dell'università di scegliere poi come alla fine di questa tenor track, che non è una tenor track, la figura di ricercatore come una figura possibile per far diventare a questa persona un professore associato. L'università può, non deve, quindi al danno si aggiunge anche una beffa. Oltre ai 15 anni di precariato si può aggiungere anche il fatto che l'università di fatto non scelga questa figura per la figura di docente associato. Direi che è sufficiente. Cosa domanderesti tu al ministro? In questo momento credo che ogni domanda sia poco. Il documento dovrebbe essere stralciato, ma ovviamente è utopia. Dovrebbero non esserci poteri forti che stabiliscono che cosa va fatto all'interno dell'università e dovrebbe essere stabilito dall'università che cosa serve. Siamo di fronte ad un turnover che di fatto verrà bloccato, questo si diceva già un anno fa, ma ora le cose sono soltanto che peggiorate. E siamo di fronte soprattutto alla scomparsa di una intera fascia intermedia che non scompare solo per qualche anno, ma che di fatto annulla qualsiasi possibilità per gli studenti attuali di intraprendere questa carriera. Aggiungo un'altra cosa. Il consiglio di amministrazione dell'università verrà gestito da esterni, da almeno un 40% di persone esterne dell'università. Questo vuol dire che il 40% più il rettore più il fatto che quel 40% può aumentare di fatto rende il consiglio di amministrazione un qualche cosa di esterno all'università.